Scott, ho bisogno che tu sia Ant-Man. Questa è la tua occasione. L'occasione per guadagnarti quello sguardo negli occhi di tua figlia. Per diventare l'eroe che lei già pensa che tu sia. Credo che le seconde occasioni non si presentino molto spesso. È un vecchio messaggio. È all'ingresso principale. Il tempo funziona diversamente nel Regno Quantico. Se ci fosse un modo per entrare in un preciso momento nel tempo, ma puoi uscire in un altro preciso momento nel tempo? Potremmo riportare tutti indietro. Tutta la mia vita è frutto di casino. Non capita a tutti di salvare il mondo. Avengers! Uniti. Scott Lang. La tua realtà. Tutto ciò a cui tieni. Io so come finirà. Non è alla tua portata, Ant-Man. Uniti. 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 Grazie per la visione!